Mi è stato chiesto cosa cambierei e cosa terrei comunque rispetto alla scorsa gara. Secondo me la scorsa gara si è distinta da un approccio molto predisposto anche e soprattutto a livello mentale la tensione era molta e soprattutto questa ci ha comunque limitato all'inizio della gara quindi questo è forse un aspetto che cambierei. Tuttavia ci ha permesso comunque di mantenere sempre la voglia di giocare e anche con una squadra esperta siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ciò che invece cambierei è sicuramente il calo che abbiamo avuto nel terzo barra quarto set no secondo barra terzo set però è stata una bella ripresa nel quarto set siamo entrate sin da subito quindi secondo me l'emozione la frenesia e così le terrei. Saluto tutti e il nostro preparatore Andrea.